Buonasera amici sportivi appassionati di tutti gli sport, ben ritrovati all'appuntamento con Domenica Replay, tredicesima puntata stagionale e la domenica sportiva del Tigino eSport con un ospite questa sera che vado a salutare, reduce da una bella impresa sportiva, perché quando si parte dalle porte di Ercole, da Gibilterra e dopo 8 mila chilometri si arriva a Caponord, questo signore merita il nostro chapeau e i nostri complimenti e con noi, io avevo segnato Juan, non so perché, José Luis Tani Stanghelini, buonasera José Luis, come ti chiamano? José Luis, buonasera José Luis, e grazie di essere con noi e di aver accettato il nostro invito. Con lui parleremo e devo dire, vedremo delle belle immagini di quella che è stata la sua grande avventura di pochi mesi fa, di quest'estate, sei partito da dove e dove sei arrivato, tanto per cominciare. Siamo partiti il 6 maggio da Gibilterra e siamo arrivati il 23 luglio a Caponord. Quanti chilometri? All'andata erano 7600 chilometri circa e poi abbiamo fatto altri 1000 chilometri a ritorno perché siamo arrivati ad Amsterdam il 12 di agosto. Spieghiamo con quale mezzo perché uno se ne diceva se sono andati in aereo. No, abbiamo utilizzato biciclette, biciclette da turismo equipaggiate con tutto l'occorrente che serve per un viaggio del genere. Parli al plurale, poi cominciamo anche con il resto della trasmissione. Parli al plurale perché con te c'erano due amici, c'era uno spagnolo, un francese e un italiano. Non è una barzelletta. È vero, detta così sembra una barzelletta, ma no, siamo tutte e tre dipendenti di una multinazionale, la Smart Fit K, leader in Europa e nel mondo nel settore degli imballaggi di cartone odulato. Sei dipendente qui? Sì, io sono dipendente qui a Lunata. Dici i nomi degli altri due subito e poi dopo entriamo. Certo, Filippo Rochelet, dipendente della Smart Fit K Facture a Andernos Labene in Francia. È francese. Sì, e Luis Miguel Alonso, dipendente della Smart Fit K al Cala de Nares in Spagna. In Spagna. Eh beh, questi tre ragazzi, cos'è Luis e questi altri due, adesso andremo a raccontare poi quello che hanno fatto. Sei appassionato di sport in generale? Sì, un po' di tutto. Segui un po' di tutto? Segui un po' di tutto. Ciclismo particolare. Ciclismo, podismo e nuoto in particolare. Beh, parleremo anche di tutto questo, però cominciamo dal calcio. Perfetto. Cominciamo dal calcio e dalla Lucchese, che sabato era impegnata nella trasferta difficile di Chiavari contro la Virtus Entella. È una Lucchese che stavolta l'impresa l'ha quasi sfiorata. Vediamo. Un'altra grande sulla strada della Lucchese, di scena a Chiavari, sul campo della Virtus Entella. Dopo aver domato Siena e Cesena, Rossoneri possono provarci ancora? Ma Ryan cambia due, Mastagli e Bruzzaniti al posto di Dalena e Semprini. Assume subito l'iniziativa la squadra di golpe, ma la Lucchese prova a pungere con la velocità di Bruzzaniti. Al ventiduesimo, Tegola per i Rossoneri, si fa male Bianchimano. Problema al bicipite femorale, dentro Semprini. Al ventinove, magnifico contropiede della Lucchese, Franco Bruzzaniti-Rizzopinna. Che calcia è rigore per i Rossoneri sul tiro di Rizzopinna, per l'Ister che viene ammonito, respinge in modo vistoso con le mani. Dal dischetto si presenta il centrocampista Mastalli, che batte benissimo, spiazzando il portiere Ligure, portando in vantaggio la Pantera. Seconda rete stagionale per il mediano di Maraia e inchino sotto lo specchio dei tifosi lucchesi. Al quarantasettesimo del primo tempo, in pieno recupero, Zamparo va vicino al gol del pareggio, ma si va a riposo con la Lucchese avanti 1-0 e non è uno scandalo. In avvio di ripresa, dentro Merletti per Quirini, attacca Lentella, la Lucchese prova a difendere il prezioso vantaggio. Alla mezz'ora, Morosini conclude alto, forcing della formazione Ligure. Quando la Lucchese già sa porre una nuova impresa, Lentella trova il punto del pareggio al novantesimo con Favale, il classico gol dell'ex. Il giocatore è anche fortunato, il pallone colpisce il palo ed entra alle spalle del portiere rossonero. Peccato perché Tiritielli e compagni avevano corso pochi rischi. Finisce così 1-1 con qualche rimpianto di troppo per una vittoria sfumata proprio in estremis. E sabato prossimo si continua ancora con un big match. Al Porta Risa arriva la Carraresa. E quella sarà una partita molto interessante. So cos'è che tu andavi a seguire la Lucchese prima che ti nascesse la bimba, no? Sì, sì, sì. Ma ti abbiamo perso come tifoso o ti riacquisteremo? Forse, chi lo sa. Ma dove andavi? In curva? Andavo in curva, sì. Avevo tanti amici, sì, 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 sì. Amici e colleghi. La bimba cresce, ora quanti anni ha? La bimba ora ha dieci anni, ne compie ora di anni. Ora poi crescerà, poi comincerà a uscire da sola. Adesso ci sentiamo invece l'allenatore Ivan Maraia al termine della partita. È un Maraia, insomma, come si dice, un po' deluso relativamente. Però certo, quando si viene raggiunti al novantesimo, ecco l'intervista. Sì, brucia come è arrivato perché chiaramente subire gol negli ultimi minuti è sempre amarezza perché la squadra aveva lottato bene per tutta la partita oppure facendo un secondo tempo magari più difensivo. però credo che non avesse rischiato il minimo. Secondo me la partita in quel momento lì era in controllo tranne qualche situazione di cross laterali che secondo me stavamo gestendo bene. Quindi c'è il rammarico per questa vittoria sfuggita nel finale. Ed il rammarico è quello che, è chiaro, secondo tempo sei un po' calato ma nel primo probabilmente dovevi, visto l'andamento proprio del primo tempo, dovevi forse avere un vantaggio maggiore perché le situazioni sono capitate. Allora forse la partita sta un po' lì. Quello nello sfruttare quando è il momento le tue situazioni perché poi è chiaro contro una squadra anche così forte, importante può anche capitare poi nel secondo tempo se non riesci mai a ripartire di subire qualcosa. In quel momento lì chiaramente secondo me la partita era quasi in pugno. Era quasi in pugno e ci dispiace che i ragazzi ci tenivano a fare una grande vittoria ma comunque è un punto sempre molto positivo qui che ci dà continuità. Abbiamo giocato contro due squadre importanti in quattro giorni e abbiamo fatto due ottime partite perciò dobbiamo essere scontenti perché la strada è quella giusta pur con l'amarezza però con grande soddisfazione perché comunque un punto che è a chiave è sempre positivo. Allora intanto vi ricordo che oggi ha giocato anche la lucchese femminile non in campionato in Coppa Italia era la gara di andata, ha pareggiato 1-1 con il Ponte d'Era Autorete della Piccini al 55esimo il pareggio della Bengasi al 90esimo Diamo risultati della Serie C e la classifica che poi vedremo e commenteremo con Luis la prima parte della tua avventura. Allora i risultati sono questi Ancona-Alessandria 3-0 Montevarchi-Pontedera 1-2 Carrarese-Torres 0-1 Fiorenzuola-Rimini 2-1 Gubbio-Siena 2-0 Cesena-Sandonato-Tavarnelle 3-2 Fermana-Reggiana 0-3 Imolesi-Vispesaro 0-0 Olbia-Recanatese 1-1 E l'abbiamo visto e commentato Virtus Entella-Lucchese 1-1 La classifica che vi dico per le prime posizioni cercano di prendere largo Reggiana e Gubbio 36-35 e saranno le due squadre che si giocheranno il platonico titolo di campione d'inverno Mancano due giornate alla fine del giro dell'andata La Lucchese è tornata nella parte sinistra quella che ci piace della classifica e in questo momento sarebbe ai play-off Allora Luis Cominciamo adesso grazie al filmato che ci ha fatto pervenire che ci ha fatto avere e che Marco Cervelli mette in onda a commentare un po' questa fantastica avventura che hai vissuto Da sempre avevi questo sogno, lo hai coronato Allora siete partiti a giugno, a maggio? A maggio, 6 maggio Siamo partiti il 6 maggio da Gibilterra Qui tra l'altro si vede un aereo Non mi garantisco che non sono andati in aereo No, questo qui è proprio l'inizio Ma che è nata l'idea? Fammi capire Allora, il progetto nasce da un'idea di Philippe Rochelle Che lui È il tuo amico francese Sì, è lui Lui praticamente aveva anche lui questo sogno di arrivare a Caponord All'inizio aveva pensato di partire direttamente da Facture Poi dopo una proposta che ha fatto al CAI, al Comitato Aziendale Europeo Ha pensato di promuovere questo progetto Ecco le vostre tre biciclette Sì, per raccogliere fondi Infatti, noi siamo partiti da Gibilterra fino a Caponord E poi siamo arrivati ad Amsterdam per raccogliere fondi Da donare a un'associazione affiliata polacca di Medici Senza Frontiere Beh, quindi anche un gesto di grande solidarietà Quello che avete voluto fare Sì E veramente di grande testimonianza Com'è stata la fase iniziale? Perché tu hai fatto in passato altre cose interessanti Vedi una Milano-Sanremo Sì Vabbè, è quella Ma hai fatto anche la Milano-Sanremo a piedi Sì Quindi non sei nuova a queste Intanto, vabbè, commentiamo queste immagini Com'è stata la fase d'inizio? Tempo bello, mi pare, insomma, abbastanza Nella prima fase del viaggio abbiamo trovato sempre tempo bello Anzi, abbiamo trovato molto caldo Perché in Andalusia, in Castiglia-La Mancia, in Castiglia-Leon Abbiamo trovato veramente, veramente molto caldo 35-36 gradi quasi tutti i giorni Abbiamo incontrato le prime piogge alle porte del Belgio E poi, però, per fortuna sempre tempo bello Stranamente dico in Belgio Visto che sei appassionato di ciclismo Sai che quando ci sono le classiche del Nord, insomma Capita qualche volta Capita molto spesso Purtroppo E mi dicevi, avete fatto complessivamente 85 tappe Sì, 85 tappe e 100 giorni di viaggio 8600 di chilometri in tutto, in totale C'è stata in questa prima parte, poi più tardi vedremo la seconda C'è stato mai un momento di difficoltà? Mi sembra di no Nella prima parte del viaggio no Diciamo che il viaggio è andato molto bene A parte un po' il caldo E eravate anche allenati, immagino Perché prima di affrontare un'avventura del genere Sì, ma allora la difficoltà di un'avventura del genere Non sta tanto nella preparazione atletica Ma sta tanto quanto proprio nel viaggio in sé per sé Perché noi alla fine di ogni tappa avevamo le nostre tende Sicché montavamo la nostra tenda Dovevamo pensare alla cena, alla colazione, al mangiare Perché questi signori andavano in albergo a 5 stelle? No, c'è stata anche la possibilità di andare in albergo Poi mi devi raccontare un aneddoto Un aneddoto particolare me lo devi raccontare Io stasera Marco, qua e là salterò qualcosa Ma è evidente che dobbiamo dare spazio anche a lui Andiamo alla Serie D Oggi noi abbiamo seguito la partita del Tau Calcio Che pensa dopo 7 mesi è tornato a giocare sul suo campo Questa prima parte del campionato aveva sempre giocato a Ghivizzano Al Carraia di Ghivizzano Tau Calcio che ospitava il Grosseto Allora se Maraia prima poteva avere qualche rimpianto Forse lo può avere anche l'allenatore del Tau Vediamo perché Finalmente il Tau torna a casa Allo stadio comunale di Via Fratelli Rosselli Si riparte in una domenica grigia di dicembre Che è Natale dietro l'angolo Cristiani si affida allo schieramento solido E la champagne al bomber brega Dall'altra parte un Grosseto in completo rosso Finora largamente inferiore alle attese Bel colpo d'occhio per il comunale che si presenta a Gremito Grande avvio del Tau Il tiro di Pietrelli sorvola la traversa Gli Amaranto protestano per un fallo di mani Che l'arbitro pica non rileva Il Tau domine e spreca Spreca e domina Miracoloso salvataggio di Cipolletta Sul tiro di Borgia A Plitgo battuto Poi il palo salva i Maremmani Sul tiro di Antoni Ed ancora Tommaso Carcani Sciuppa tu per tu col portiere Grossetano Spedendo a fondo campo Cristiani perde Mancini per infortunio Entra Cartano Gioca il Tau e spreca il Tau Come fosse già arrivata la Befana Guardate Carcani come fallisce Un rigore in movimento Allora fiorano cattivi pensieri Dopo tanto ben di Dio gettato al vento Il calcio è bello perché strano Grosseto in difficoltà E si dovrebbe stare almeno sul 2-0 Ma il Tau è sprecone fino all'inverosimile Si va a riposo sul nulla di fatto Che non rispecchia quanto visto finora In avvio di ripresa Prova a scuotersi il Grosseto Discesa di Carannante Neutralizzata dall'uscita bassa del portiere Partita più equilibrata nel secondo tempo Anche se la squadra più minacciosa Resta quella di casa Il tiro di Gurini Sibila ad un soffiallato Della porta di Plitko E poco dopo La punizione di Giustarini Uno dei migliori in campo Sorvola di poco la traversa Fossimo nel pugilato Sarebbe verdetto unanime Ma qui non siamo sul ring Ed infatti Campanello di allarme Quando Ciolli Ai tante ed esperto Difensore centrale grossetano Incorna pericolosamente di testa Sul calcio d'angolo di Tripicchio Sfiorando addirittura Il punto del vantaggio Il Tau cala Il grosseto si fa più ardimentoso La conclusione dal limite di Tripicchio Costringe Carcani alla deviazione in angolo A dieci dal novantesimo Esce Giustarini Tra gli applausi Ed entra Brega Finale nervoso Ne fa le spese cristiane Il tecnico del Tau Che viene ammonito L'urlo del comunale Rimane strozzato in gola Quando viene annullato Per fuori gioco Un gol a Brega All'incedere del novantesimo La partita Sembra ormai destinata Allo 0-0 Tre minuti di recupero Ma risultato Che sta molto stretto Al Tau Non cambia La squadra Maranto Paga le troppe occasioni fallite E anche un pizzico di sfortuna Domenica prossima Trasferta ad Arezzo Contro la formazione di indiani Ringalluzzite non poco Dalla vittoria per 2-1 Sul campo della Pianese Cosa dici Luis Quando non vuole entrare Non entra Quando non vuole entrare Il salvataggio sulla linea Il salvataggio sulla linea Quel palo Magari Eh sì Lì la sblocchi E poi cambia tutto Sentiamo veramente Se l'allenatore Del Tau È così rammaricato Prima Quell'ospite Come sempre Liguori Del Grosseto E poi Cristiani Il calcio È così L'unica cosa Che salvo Della partita di oggi È la grandissima reazione Che abbiamo del secondo tempo L'applicazione Con cui i ragazzi Non hanno mollato Nella difficoltà Non è un campo facile Infatti Il Tau Oggi è il settimo risultato Tutti i consigli di cose Se non sbaglio Che fanno Quindi sono contenta Alla fine del punto Che abbiamo preso Un po' di rammarico C'è Però domenica Magari abbiamo conquistato Un punto Che non era Legittimato Oggi Magari era meglio Perder domenica E vincere oggi Per quello che si è visto In campo Poi dopo Ci sono gli episodi Non sono girati bene Però la squadra È andata È andata forte Via È andata al massimo Ha fatto Credo un primo tempo Spettacolare Per tutti Anche per chi era A vedere la gara Mi dispiace Perché quando fai Questi sacrifici O queste prestazioni Qui se non viene ripagato Poi dopo Punti poi mancano Il calcio prende Il calcio dà È come la vita È chiaro che Cristiani Mentre direi di preparare Le prossime immagini Marco Che sono quelle Della secca sconfitta Del Giviborgo Luis dice Se avessimo perso Domenica scorsa E vinto oggi Avremmo fatto tre punti Invece hanno fatto due pareggi Ne hanno fatti due No? Eh sì Allora È andato male Il Giviborgo Molto male Perché è stato Sconfitto Siamo a Terra Nuova Bracciolini Lo sai dov'è? Sì Ah lo sai Sì Allora Vediamo i tre gol Incassati Dalla squadra di Maccarone Sinceramente Queste sono le partite Più difficili Perché vai a giocare Su una squadra Che ha gli ultimi posti Della classifica Pensi Che sia tutto facile Invece stiamo vedendo Il gol di Sacconi Al decimo del primo tempo Poi il raddoppio Di questo Sacconi Veramente scatenato Ci sono anche queste belle immagini Dal basso Che ha portato il Terra Nuova Traiana Così si chiama la squadra Sul 2 a 0 E poi nella ripresa Petrioli Ha ben pensato Di segnare Lo vediamo Il gol del 3 a 0 E per il I bianco rosso azzurri Del Ghiviborgo È stata notte fonda Sicuramente una sconfitta Su cui meditare Nella nostra domenica sportiva Abbiamo anche Il 2 a 1 Col quale Il Flaminia Civita Castellana Ha battuto Il Seravezza Pozzi Altra squadra Nostrana Qui la partita È stata un pochino più Diciamo Equilibrata Rispetto a quella Del Ghiviborgo Perché Abreu Santos Al quarto minuto Del primo tempo Ha portato in vantaggio La squadra di casa In maglia rossa Lo vediamo Poi sull'1 a 0 Il Seravezza Di Walter Vangione Ha avuto l'opportunità Di questo calcio di rigore Che poteva ristabilire Il punteggio Sull'1 a 1 È stato sprecato Maldestramente Poi il Terranò Il Flaminia Si è portato Nella ripresa All'undicesimo Sul 2 a 0 Con Sirbu E annulla E valso Adesso lo vedremo Il gol di Di Vietina Al diciassettesimo Nel secondo tempo Gol del 2 a 1 Ma per il Seravezza Che non sta Disputando finora Un campionato Forse all'altezza Della situazione C'è stata La sconfitta Infine Andiamo al Necchi Balloni Di Forte De Marmi In quest'ampia Panoramica Real Forte Querceta Lentigione Qui siamo nel Girone D Della serie D Il Lentigione Ho guardato le statistiche Stasera Che non ha mai perso A Forte De Marmi È andato in vantaggio Al settantesimo Con Muro Il Real Forte Però Se è rovesciato In avanti A 4 minuti Dalla fine Ha trovato Il pareggio Con Verde Allora facciamo una cosa Marco Diamo risultati Della serie D Dei due gironi La classifica Velocemente Poi ci fermiamo Nella seconda parte Proseguiremo poi Con Luis Il racconto Anche della sua avventura E parleremo Anche di tutte le altre Discipline Rivediamo Risultati Del Girone D Sedicesima giornata Riccione Prato 1 a 2 Aglianese Bagnolese 0 a 1 Correggese Salso Maggiore 2 a 0 Corticella Sant'Angelo 2 a 6 Crema Carpi 1 a 1 Fanfulla Gianna Ermini 1 a 4 Ravenna Forlì 2 a 1 Real Forte Querceta Lentigione 1 a 1 San Maurese Pistoiese 3 a 2 Scandicci Mezzolara 2 a 2 Qui la classifica Ci dice che La Gianna Ermini A 35 punti Il Carpi 30 La San Maurese 28 Real Forte Querceta Che è l'unica squadra Lucchese Versiliese Presente in questo girone Molto bene Con 26 punti Ricordiamo che Real Forte Querceta Assieme a Forlì Pistoiese E Prato Queste squadre Hanno anche Una partita In meno Girone Flaminia Seravezza 2 a 1 Gavorrano Monte Spaccato 1 a 0 Orvietana Mobiliari Ponsac 1 a 0 Pianese Arezzo 1 a 2 Poggi Bonsi Ostiamare 1 a 1 Tau Calcio Grosseto 0 a 0 Terra Nuova Traiana Giviborgo 3 a 0 L'Arezzo Ha vinto il big match Sul campo della Pianese Quindi si è riavvicinato Pianese 32 Arezzo 30 Poggi Bonsi 26 Troviamo La prima delle nostre Giviborgo Con 17 punti In questo caso Sono tutte Nella parte destra Poi Seravezza E il Tau Calcio A 14 E l'auspicio Che tutte e tre Le nostre squadre Alla fine del campionato Riescano Ad evitare il play out E ottenere La salvezza L'obiettivo Mi pare questo Ti sei interessato A queste partite? Sì Sì Sono piaciute? Allora Luisa Noi andiamo In pubblicità Quando torniamo Ricominciamo A parlare anche Di altre discipline Questa sera Il basket E poi ci racconterai qualcosa E vediamo Anche le immagini Quando arrivate A Caponord A Caponord E ci racconterai La tua sensazione E la tua emozione A tra poco Seconda parte Di questa puntata speciale Di Domenica Replay Nella prima parte Abbiamo parlato di calcio Abbiamo visto la lucchese Abbiamo visto le immagini Di tutte le squadre nostrane Di serie D Abbiamo visto anche Le classifiche I risultati Le classifiche Siamo in compagnia Però stasera Di José Luis Tani Stanghellini Questo ragazzo Nato e cresciuto Nato A Capannori Praticamente Che sei venuto in Italia Tu sei di origini perubiane Io sono di origini perubiane E sono venuto in Italia Che avevo All'incirca 8 mesi 8 Ma lo spagnolo Lo sai parlare? L'ho imparato Per i viaggi Ah L'hai imparato Ci mancherebbe L'ho imparato Per i viaggi In Perù hai sempre I tuoi parenti La tua famiglia Sì In Perù Sei fratelli E però il rammarico Non sei mai stato in Perù? Non sono mai stato in Perù No Non ancora Pensi di andare? Sì penso di sì Però in questo momento Non ancora Ho altre priorità Però A proposito di calcio Io facevo un esempio Perché erano una coppia Nel Teramo di qualche anno fa E mi sto riferendo A uno dei due attaccanti La Padula Che è di origini perubiane E nazionale peruviano Che poi è andata anche al Milan Insomma Faceva una coppia strepitosa Col suo compagno di reparto Vennero qui a Lucca Però qui a Lucca Non riuscirono a segnare Ma era un attaccante Molto molto forte Senti A parte il calcio Che ora hai momentaneamente Un po' E il ciclismo Quali altri sport ti piacciono? Ma personalmente Pratico Snowboard Nuoto Mi piace molto nuotare in mare Snowboard È vero che nuotare in mare È un po' più complicato Che in piscina È un po' più complicato Sì È un po' più complicato Però è un po' meno monotono Perché la piscina Sei sempre in vasca Invece il mare ti permette Veramente È una libertà differente Noi abbiamo parlato In una delle prime puntate Degli Iron Man Abbiamo avuto un ragazzo Di Castelnuovo Garfagnana Che saluto Se ci stesse seguendo Pietro Santini Che all'Hawaii Ha fatto il campionato del mondo Sì 3 chilometri 3 chilometri 3 chilometri 3 chilometri 8 a nuoto 180 a bicicletta E poi la maratona Per chiudere la maratona La distanza della maratona Va bene Senti Fra poco vediamo Le tue immagini Della seconda parte Del racconto A Caponord Prima però abbiamo Abbiamo questo Minutino e mezzo Perché nel basket Noi abbiamo Diciamo che la realtà Più bella Da tanti anni Del basket Lucchese È la squadra femminile Del basket Le mura Che martedì Giocherà Fuori casa Una partita Molto importante A Moncalieri È stato un avvio Di stagione Difficilissimo L'infortunio Dell'americana Jelen Egnew E adesso è arrivata Questa ragazza Che invece è italiana Italianissima Napoletana Sara Bocchetti Che dovrebbe essere Un bel rinforzo Per il basket Le mura Allora la sentiamo Abbiamo preso Questo straccio Dalla lunga intervista Realizzata Dal canale social Del basket Le mura Sara Bocchetti Che è un po' La grande speranza Anche del rilancio Della squadra Di coach Andreoli Sentiamola Ci saranno sicuramente Quattro partite Fondamentali Prima di Natale Che ci permetteranno Di capire Dove realmente Lucca può arrivare E affrontiamo Queste quattro partite Sicuramente Con serenità E consapevolezza Che in questa Squadra Comunque C'è del potenziale E Sono sicura Che Qualcuno La classifica Inizierà A smuoversi Se riusciamo Ad essere compatte E a lavorare Per bene Con determinazione Sicuramente Non si può dire Che le ragazze Non abbiano lottato Ad ogni partita Però A volte Quando manca Un ruolo Così Importante Inevitabilmente Vengono fuori Dei limiti Io cercherò Di dare Del mio meglio Farò Del mio massimo Per dare Il giusto Contributo E per ripagare La fiducia Che la società E lo staff Mi ha Concesso Insomma Già Dal 6 Dicembre Ci sarà La prima grande Sfida Importante Da portare A casa Su questo Sarò In realtà Veramente Molto breve Perché Mi ritengo Molto fortunata Perché Già faccio Quello che mi piace Fare Passando la maggior Parte del tempo In campo Quindi Nel tempo libero Mi piace stare Mi piace trascorrerlo In famiglia E insieme Ai miei amici Beh 19.30 Pala Einaudi Di Moncalieri La squadra si chiama Cronos A Cronos Ma io Penso Cronos E dico che è il tempo Veramente Per il basket Le mura Adesso di tornare Che dici Alla vita Tu so che Tifi puoi per tutte Le nostre squadre Quindi Certo Cos'è Allora Adesso seconda parte Di questo viaggio Eh Di cos'è Di suoi due amici Spagnolo E E francese Verso Caponord Possiamo dire che la seconda parte Anche per condizioni Climatiche Anche se eravamo In piena estate È stata Leggermente più complicata È stata Leggermente più complicata Allora In partenza Il 12 Di Giugno Il nostro collega Spagnolo Purtroppo Ha deciso di Mollare E ha terminato Qui siete rimasti in due Siamo rimasti in due E ha terminato L'avventura ad Amsterdam In sede Quando siamo arrivati E siamo partiti Io e Filippo Da Amsterdam Non si poteva mollare Non si poteva mollare Motivati Però eravamo Di testa Un pochino Più scarichi Anche perché In tre Un viaggio del genere È una cosa Eravate un po' demoralizzati Un pochino sì Perché in due La convivenza Era 24 ore su 24 Tra di me e lui Sempre fissa Che non è stato molto semplice All'inizio Poi però piano piano Abbiamo creato Un buonissimo team Abbiamo fatto squadra E abbiamo riniziato A fare la cosa Più fondamentale In viaggi tipo Del genere E ci siamo divertiti Qui siete già in Finlandia Ecco Qui vediamo che paesaggini Gli stessi animali Ci dimostrano che Insomma Qui cominciavate Ad avvicinarvi Alla meta Sì Qui eravamo In Finlandia Eravamo quasi Al confine con La Norvegia Eravamo a Illas E E niente I laghi I grandi laghi Lì c'è una natura Fantastica Cioè Guarda Guarda questo È bellissimo 19 luglio Quanto manca qui 19 luglio Lì mancano quattro giorni Perché noi siamo arrivati Il 23 luglio A Caponordo Una giornata pessima Proprio pessima Qui siete in Norvegia Tu raccomi Qui siamo sul tunnel Quello che porta All'isola di Caponordo E quello che è Sotto il mare Lì praticamente Siamo sotto il mare Sull'ultimo tunnel Proprio che arriva Prima di Onningsbag E qui ci siamo quasi E lì siamo A Caponordo E lì siamo a Caponordo Siamo al globo Mamma mia E si vede purtroppo La giornata che abbiamo trovato Che sensazione In quel momento Sensazione bellissima Perché Per me E la realizzazione Di un sogno E poi La realizzazione Di un progetto Che all'inizio Ecco guardate Qui c'era proprio Tutto il percorso Mamma mia Pazzesco Guardate questi paesaggi Senti Francesco Negri Un sacerdote francescano Esploratore Disse a proposito Di Caponordo Dove finisce l'Europa Tu che sensazione hai Quando si arriva in un posto Dove Dove Poi adesso In questo periodo Credo che lì Sia quasi Non so No Ora Forse sempre buio Ma quasi Sì quasi Manca poco Sì 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 Perché Una delle sensazioni Più belle Quando arrivi a Caponord È proprio La realizzazione Sentirti Che sei realizzato Hai creato Ma senti che è un posto Che faccino ha un posto così Cioè dici Sono veramente Quasi ai confini del mondo Sì Lui ha detto Ai confini dell'Europa Ai confini dell'Europa Il nostro progetto Era partire dal punto più a sud D'Europa Anche se non siamo partiti Perché il punto più a sud È Tarifa E arrivare al punto più a nord D'Europa Che era Caponord Senti Il vostro viaggio Aveva anche uno scopo Di solidarietà Di cui parleremo tra poco Sì E quello non era direi Secondario Prima però vorrei parlare Perché a me piace molto Proprio per Per compensare No La mia età Parlare di giovani Abbiamo una foto Parlando di atletica Di questa ragazzina Ragazzina 18 anni però Molto promettente Che si chiama Carolina Fraquelli È quella a destra Nella foto Insieme alla sua compagna Della Virtus Marina Senesi Attenzione perché poi Sono tutte e due Molto forti Sono allenate appunto Dalla Virtus Da Enrico Carelli E stamattina Carolina Fraquelli Ha vinto a Carrara La settima edizione Della Fosson Cross Ha vinto a livello Assoluto e quindi Con atlete anche Più grandi di età Sui tre chilometri Come mi raccontava Lo stesso Carelli È andata fortissimo E queste due ragazzine Veramente Secondo me Per quanto riguarda Il mezzofondo Ora qui parliamo di cross Ma in generale Anche la pista Possono diventare Il futuro Della Virtus Di un altro paese E lì vuol dire conquistare Per lo meno La medaglia di bronzo Possiamo tornare in studio Aggiungo che invece Non ce l'ha fatta Negli 80 kg Samuele Giuliano Questo ragazzo Molto giovane Di Borgamozzano Che è stato battuto Con un verdetto Abbastanza discutibile Dal marchigiano Emanuele Ansalone Sconfitto ai punti Beh del resto Nel pugilato È così Se non vinci In modo netto Talvolta Però noi abbiamo Un campione italiano L'hai vista La puntata con Marvin L'ho vista L'ho vista La puntata di domenica Dobbiamo fare ancora Complimenti A Marvin Sì 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 Stato veramente grande Ora poi ci farà sapere Con chi farà La difesa Del titolo Senti Il progetto Aveva una finalità Una finalità Legata Alla Appunto Come si può dire Alla La solidarietà Sì Sì Praticamente Noi abbiamo raccolto 52.500 euro Che Quell'assegno Che abbiamo visto Prima nella foto Sì Quelli lì Erano assegni Che venivano Donati Dalle aziende Perché noi Durante il nostro percorso Siamo passati Per 36 stabilimenti Della nostra multinazionale In nove paesi Europei Perché In Spagna In Francia In Belgio In Olanda In Germania In Danimarca In Svezia Ci sono le nostre aziende E lì avevate raccolto 52.500 euro Somma Che poi Quando siamo arrivati Ad Amsterdam In sede È stata raddoppiata Dalla nostra azienda E sono diventati 105.000 euro Che poi voi avete consegnato Personalmente A Barzavia Alla direttrice Di Medici Senza Frontiere A Barzavia Perché ricordiamo Il lavoro che fanno Medici Senza Frontiere Un po' in tutti i luoghi Più tribolati E ce ne sono Ahimè Purtroppo tanti Sul nostro pianeta Che noi chiaramente Adesso abbiamo In mente Perché ce l'abbiamo Alle porte di casa La guerra in Ucraina Ma non so quante guerre Ci sono in questo momento In tutto il mondo Tantissime Io ho avuto La fortuna Di avere una testimonianza Diretta Di un medico Che opera Con Medici Senza Frontiere E devo dire Che mi ha aperto Mi ha dato Una testimonianza Bellissima Non solo Ora in questo momento In questo ultimo conflitto Ma anche in Africa E in altre guerre Ma E non solo Sono veramente Attivi E sempre presenti Fanno un lavoro Incredibile Incredibile Vuoi vedere Delle belle immagini Le vuoi vedere Visto che ti piace L'acqua Ti piace il mare Ti piace notare Qui non vediamo notare Qui vediamo Semplicemente Ecco Queste sono Le fasi preparatorie Siamo sul torrente Lima Nella zona di Bagni di Lucca Conosci? Sì Allora C'è stato un appuntamento In questo fine settimana Poi vi faremo avere Un po' tutti i dettagli Per quanto riguarda Anche la parte Dei risultati Dicevo Un appuntamento Della Coppa Italia Di rafting E pack rafting È stato un weekend Davvero intenso Con tanti equipaggi Addirittura una sessantina Provenienti Da tutta Italia Più di cento atleti Dalla Calabria Fino al Trentino Alto Adige C'era in programma Come dicevo La Coppa Italia Della specialità Riservata a tutte le categorie Sabato c'è stato Lo slalom Qui stiamo vedendo Invece le immagini Questa mattina Girate dal nostro Abramo Rossi Con la discesa La discesa libera Sulla classica distanza Di 3500 Beh beh Queste immagini Ci riportano un po' Anche ai famosi film Avventurosi Mi viene in mente Un tranquillo weekend Di paura Oppure quando vedevamo Quei film con gli indiani Soprattutto nella parte Del canale Beh guardate Guardate qui Guardate qui Hai mai praticato Uno sport del genere Non ho mai praticato Non mi direi Quella ti piacerebbe fare Quello piacerebbe Poi vedendo Queste immagini La voglia viene Va bene Vado soltanto ricordare Che tutto questo È stato reso possibile Grazie alla sinergia Tra le compagnie Rafting Che sono presenti In Val di Lima Con il patrocino Dell'amministrazione comunale Di Banni di Lucca E anche Enel Che da anni Garantisce un livello Ottimale di acqua È chiaro che ci deve essere Un livello ottimale di acqua Durante tutte le gare Un evento di livello nazionale Che rappresenta Dobbiamo dirlo Un importante Primo obiettivo Nel contesto Di un progetto più ampio Di sviluppo sostenibile In ambito turistico Sportivo E ambientale Allora Vi detto questo Noi abbiamo anche Il campionato di hockey su pista Che è una specialità Molto seguita Soprattutto in Versilia Vediamo come è andata Sabato sera Nella nona giornata In questo servizio Realizzato da Roy Lepore Il 100 giovani calciatori Recupera Una partita Che sembrava persa Con grande cuore E carattere Supera il Montecchio Pre calcino 4 a 3 Fra le mura Amiche Conquistando tre punti Preziosi In chiave salvezza 2 a 0 Però Il parziale vantaggio Degli ospiti Che erano andati in gol Con Vega e Pusito Alla fine del primo tempo Chi spreca Il 100 giovani calciatori con Moiano L'opportunità di pareggiare Con un tiro diretto E un rigore Il Montecchio Con gli ex Cinquini E Cardella Viene messo sotto Nella ripresa Quando scende in pista Un 100 giovani Sicuramente diverso Da quello della prima frazione Di gioco Accorcia le distanze Moiano Pareggia Puccinelli Però Vega Torna nuovamente In gol Per i Veneti Ma Raffaelli Ristabilisce le sorti Della parità E arriva poi Il gol Partita di Moiano Per tre punti Sicuramente Importanti Ora Mercoledì C'è la trasferta A Monza E poi Sabato prossimo Il derby Con il Forte dei Marmi Fra le mura Amiche Forte dei Marmi Che vince 1-0 A Vercelli Nonostante ancora Il perdurare Delle assenze Di Ambrosio E di Pedro Gile Era stato recuperato Anche In extremis In Luzzi Il gol Partita Viene realizzato Dal giovane Luca Lombardi Al quindicesimo Del secondo tempo Che porta sicuramente A casa Una vittoria Di classifica E di morale Adesso Arriva il San Drigo Mercoledì Al Palaforte E poi Come detto C'è Questa Trasferta A Viareggio Per il derby Molto sentito Velocemente Marco Visto che ce l'abbiamo Anche le tabelle Con la nona giornata Che ci ripropone Appunto La vittoria Di misura Del Forte dei Marmi Con questo ragazzo Viareggino Che mi dicono È veramente Una grande promessa Dell'Ocche Su pista Non solo Versiliese Ma italiano C'è il posticipo Tra Bassano e Lodi La vittoria Anche del Viareggio Su Montecchio La classifica E invece È il Trissino Campione d'Italia È avanti Però il Forte dei Marmi È lì Nelle prime posizioni E Diareggio Che ricordiamo È tornato quest'anno In A1 Può fare molto bene Mi diceva Luis Che è appassionato Che la tua figlia Fa la ginnastica artistica E lo sci E lo sci Ma io non so Che sci fa Però di sci ti posso Proporre queste immagini Che ci hanno fatto Per venire gli amici Del gruppo sportivo Focolaccia Loro fanno Una bella attività Sono una grande realtà Secondo me Perché Perché fanno Ad esempio Il biathlon Che è una specialità Fantastica In certi paesi Come la Germania Sport nazionale D'inverno Loro fanno il biathlon E parliamo di una società E di una realtà Dell'Italia centrale Centro settentrionale E queste discipline Sono legate Essenzialmente Alle regioni Settentrionali Al Trentino Alto Adige Alla Lombardia Al Piemonte Alla Valle d'Aosta C'è stato il primo raduno Della Focolaccia Sulle nevi della Val Martello In Trentino In vista Dell'imminente Avvio stagionale Che ci sarà Nel prossimo Fine settimana E quindi Poi ne parleremo Ancora A Forni A Voltri Che è un po' Delle culle Del biathlon Con la prima gara Di Coppa Italia Che vedrà impegnati Miriam Michelucci La ragazza Che vediamo In queste immagini E Moritz Teragnolo Accompagnati Dai tecnici Marco Guidotti E Gabriele Giambastiani Da notare Che questa pista Di Val Martello Ospiterà In dicembre La prima tappa Della Ibo Junior Cup Una manifestazione A livello europeo E a fine marzo I campionati Italiani assoluti Che concluderanno La stagione Agonistica Quindi Complimenti A questi ragazzi Avremo modo Di riparlarne In modo più ampio Ecco Senti Volevo Innanzitutto Ringraziare La mia azienda La Smart Fit Cup Per avermi Dato la possibilità E l'opportunità Di partecipare A questo progetto Non è che ti sei Consumato le ferie Per andare a Capolano No No So che quelle aziende Sono anche abbastanza Attenti a queste cose Sì Molto Era come tu fossi al lavoro Sì E hai fatto un lavoro E ho fatto un lavoro Perché quando c'è di mezzo La solidarietà Abbiamo fatto un bellissimo lavoro E aver raccolto Alla fine 105 mila euro È stato un bel lavoro Senti la prossima La prossima idea Che ti mulina nel cervello Perché tu mi sembra Sei uno molto Molto vivo Prossima idea Innanzitutto Stupiscimi dai No Ora breve Avremo il 16 dicembre Una corsa Che faremo La quinta edizione Della Look Merry Christmas 10k È una corsa Ideata da me Per accogliere fondi Per accogliere fondi Per sponsorizzare La vendita Dei panettoni Pandori solidali Della Onlus Per la quale Collaboro Gli amici del Perù Dove la fatti questa? Questa si fa a Lucca Con partenza e arrivo Presso la palestra live A San Filippo Non sulle mura Non andate Verranno fatto Sì Un giro di 10 km Sulle mura All'interno della città E ci devi poi Il 16 dicembre Fammi capire Venerdì Ci devi far sapere poi tutto Orari Tutto quanto Ci mandi qualcosa Vedremo Vedremo di essere presenti E poi ne parliamo Nella domenica replay Del 18 Perfetto No ma qualcosa oltre Che riguarda te Ora in questo momento Arrivata a Caponord Diciamo che Sei in fase di riflessione Uno dei sogni più grandi L'ho realizzato Cosicché C'ho un attimino Da capire Ci sarebbe Una gara Importante Che mi piacerebbe fare Però è Veramente molto Molto Comperata Dicela a questo punto Dai Mi piacerebbe fare La 100 miglia Delle Lofoten La 100 miglia? Delle isole Lofoten In Norvegia Che è una corsa Che Praticamente Ma sempre bicicletta? No a piedi A piedi È una corsa bellissima È un ultra trail Una gara di endurance Di 160 km Però è Quello è un sogno Diciamo che è lì È lì È lì È lì Però Un attimo di tranquillità E relax Va bene Luis Ti ringrazio davvero Di essere stato con noi Complimenti Per tutto quello Che hai fatto Stai facendo Per quello Che sei E come ti muovi Nel mondo dello sport E della solidarietà Grazie Grazie a te Vi ringraziamo anche Marco Cervelli Domenica Replay Torna domenica prossima Sempre alle 21.30 Grazie a tutti voi E a questo punto Buonanotte Grazie